Buonasera, ben trovati all'appuntamento consueto del mercoledì con Fuori dall'Aula, politica locale a confronto, oggi a confronto su un tema ad ampio spettro, ad ampio raggio perché parliamo di sicurezza anche alla luce di quanto è avvenuto la scorsa settimana, esattamente una settimana fa in prefettura quando è stato rinnovato in qualche modo il patto per la sicurezza, quello precedente era datato 2017 se non sbaglio con l'allora ministro Minniti, tema della sicurezza che poi nel titolo abbiamo voluto focalizzare la riviera, il problema della sicurezza perché comunque da tante parti ci viene detto non è un problema di quel comune o di quell'altro, è un problema comunque che va affrontato ad ampio raggio. Noi però cerchiamo di affrontarlo partendo dal comune capoluogo che per forza di cose anche vista la mole di indotto turistico e di abitanti è quello che ha maggiore incidenza anche da questo punto di vista e quindi lo affrontiamo con due ospiti. Il primo è un ritorno per quanto riguarda questa edizione, quello del capogruppo del Partito Democratico Matteo Petrucci. Buonasera, grazie per l'invito. E un esordio, dall'altra parte quello del consigliere comunale della Lega Loreno Marchei. Buonasera ai telespettatori, grazie per l'invito. Tema sicurezza su cui ci sono tante varie sfaccettature che vedremo di approfondire nella serata di oggi, però partiamo proprio dall'appuntamento di una settimana fa quando in prefettura 27 sindaci del nostro territorio, della nostra provincia si sono ritrovati per sottoscrivere questo patto. Allora vi proponiamo il servizio che abbiamo mandato in onda la scorsa settimana anche con alcune interviste, quella al sindaco di Rimini e al sindaco di Riccione, oltre a quella al prefetto. Vediamo. Un nuovo patto per la sicurezza, rivisitato anche alla luce dei mutamenti normativi e sociali, è stato siglato in prefettura dai 27 sindaci della provincia. Ad illustrare i cardini del nuovo documento è stato proprio il prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza. Abbiamo puntato innanzitutto sulla necessità di potenziare il sistema di videosorveglianza non soltanto a cura dei comuni ma anche da parte dei soggetti privati, operatori economici che possono contribuire a rafforzare il sistema di sicurezza. Il patto prevede poi anche la necessità di attivare gli accordi di vicinato e una migliore circolarità delle informazioni collegando anche le sale operative delle polizie locali con quelle della polizia di Stato, con le centrali operative. Comuni, forze dell'ordine, associazioni e privati quindi al lavoro in maniera sinergica tutela del territorio in un vero e proprio gioco di squadra. Nel nuovo protocollo, che sostituisce quello siglato nel dicembre del 2017, per la prima volta si formalizza la realizzazione della Cittadella della Sicurezza, la sede unica destinata agli uffici di prefettura, questura, guardie di finanza, polizia stradale e carabinieri forestali negli spazi dell'ex caserma Giulio Cesare, immobile dismesso dal Ministero della Difesa e oggi acquisito dall'Agenzia del Demanio. Un passo avanti verso il compimento di un progetto che risolve in via definitiva un problema decennale, dando una sede adeguata, funzionale ed efficiente alle forze di polizia del territorio. È stato effettuato il passaggio dal Demanio militare a quello civile, sono già state avviate alcune attività di ispezione del suolo, oltre a un servizio di guardiania dell'area. Non appena perverranno i finanziamenti già chiesti dall'Agenzia del Demanio, saranno poi avviate le relative procedure di appalto. Rimini, e quando parlo di Rimini in questo caso parlo della provincia di Rimini, non è una realtà semplicemente di 330 mila abitanti, ma è il territorio con la più alta incidenza pro capita di presenze turistiche. Bene che sia così, perché questa è economia per il nostro territorio, però è evidente che c'è anche un tema di sicurezza, perché tante persone, milioni di presenze portano anche problemi sul fronte della sicurezza e quindi noi l'auspicio che abbiamo è che finalmente il Ministero possa riconoscere un adeguato contingente di carabinieri, polizia di Stato, guardie di finanza nel nostro territorio. Un cittadino, un operatore, un commerciante non poteva installare la videocamera orientata su suolo pubblico. Grazie a questo protocollo e all'impegno del prefetto sarà possibile, previo progetto approvato dalla prefettura, poter dotarsi di queste telecamere. Questo ovviamente dà una grande mano, per chi lo vorrà fare, a proteggere se stessi e a proteggere anche la comunità. Una città sicura è anche una città attrattiva dal punto di vista turistico, quindi dobbiamo tutti lavorare insieme affinché questa condizione sia realizzata. Credo per l'appunto che l'esperienza della scorsa estate, ciò che si sente in questi giorni dalle città, dalle grandi città italiane, ci debba far alzare l'attenzione e quindi lavorare tutti insieme e antetempo, chiedendo non solo risorse, non solo rinforzi, ma anche un bellissimo gioco di squadra. Il Paese ha bisogno, prima di tutto, di ricominciare a vivere nella normalità e nella sicurezza, che si chiede tutti ad alta voce, non in maniera prepotente, ma assolutamente in maniera collaborativa, perché abbiamo bisogno veramente di affrontare un'estate vera e piena. Abbiamo sentito una sintesi di quello che è stato sottoscritto all'interno di questo documento, come hai detto nel 2017 ne era stato sottoscritto uno per certi versi simile, c'è stato bisogno di rimettere per iscritto alcune cose. Allora partirei proprio da questo aspetto, Petrucci, per capire, insomma, tutto quello che è stato scritto è condivisibile. Cosa ci garantisce che adesso però si riusciranno a rendere concrete le cose che sono presenti in quel documento? Sì, come giustamente è stato detto sia nel servizio, nel contributo video, che come ha appena detto lei, questo è un aggiornamento rispetto al patto per la sicurezza che è stato firmato nel 2017, patto per la sicurezza avanzata nella provincia di Rimini. Prima di tutto bisogna valutare anche la natura di questa iniziativa, che ovviamente lodevole perché tratta un tema di un'importanza fondamentale per il nostro territorio. Poi è riuscito a mettere d'accordo 27 sindaci di provenienze politiche diverse, ma che sono amministratori che comprendono bene quali sono le problematiche di questo territorio e che per la prima volta riusciamo tutti a capire insieme che sicurezza non è solo un risultato, ma è un processo che porta a un risultato. E' questo patto per la sicurezza che è anche multidisciplinare, se vogliamo, ci permette appunto di, secondo me, nel medio e lungo periodo, ma speriamo anche con dei risultati nel breve, con delle iniziative che poi spiegherò, ci può permettere di arrivare ad un risultato concreto che sicuramente innalzerà la qualità della vita del nostro territorio. E' chiaro che ogni singola amministrazione deve fare la sua parte, ma la faranno tutti i 27 comuni coinvolti in questo patto, perché è di un'importanza fondamentale. Cosa ci garantisce? Che questo patto ora verrà rispettato, si concretizzerà? Beh, prima di tutto adesso abbiamo sicuramente una sede dentro il quale concretizzare e attuare questa iniziativa e questa proposta. Perché ricordiamo che il precedente patto faceva riferimento all'area di via Ugo Bassi. Esattamente. Adesso però c'è una proprietà, che è l'ex caserma Giulio Cesare. Ecco, lì nei prossimi anni, attraverso dei lavori a carico dello Stato, si andrà a organizzare questa cittadella della sicurezza, anche in una posizione strategica per questa città, che ci garantirà appunto di offrire un servizio a tutto il territorio, a tutta la provincia, che sarà sicuramente di qualità, proficuo ed efficace. E questo prima non c'era. Prima era stato firmato un patto che riguardava un'altra struttura. Adesso di fatto c'è la proprietà di una struttura da parte dello Stato sul quale lo stesso Stato interverrà. Manichè, è fiducioso? Dunque, bisogna essere sempre fiduciosi, anche se ovviamente ci sono molte riflessioni su quello che deve essere un problema da risolvere, soprattutto per la città di Rimini, e occorre che non diventi una malattia cronica. Innanzitutto partirei dalla qualificazione di questo patto, che è vero che è stato menzionato come un aggiornamento, ma in realtà lo stesso volume del testo indica, 25 pagine contro le 4 scarne, indica che i propositi sono molteplici. I problemi che si sono posti sono notevolmente superiori e quindi questo non può che essere accolto con favore perché si sviscera in maniera adeguata tutto quello che è possibile fare. È chiaro che però noi viviamo in una città in cui, soprattutto chi oggi riveste il ruolo di sindaco, quando si è trovato a gestire il problema della sicurezza come assessore di competenza, non solo non ha mai risolto alcun problema, ma la sicurezza in città, soprattutto parlo di quella effettiva, di quella percepita, perché di proclami, di iniziative se ne sono fatte dette tante, ma è sotto gli occhi di tutti che l'insicurezza è aumentata e si è diffusa in zone sempre più ampie della città. Quindi la fiducia e l'apprezzamento per lo sforzo ovviamente c'è, bisogna anche considerare però che questo è un patto, è una dichiarazione di intenti che riguarda ovviamente istituzioni di diversa competenza, quindi quello che riguarda l'autorità governativa nazionale, quello che riguarda la magistratura, ma poi a livello cittadino occorre una declinazione che veda un netto, nettissimo cambio di passo rispetto al passato. Un cambio di passo lo vede necessario anche lei Petrucci? Ma il cambio di passo sicuramente va effettuato, anche perché ricordiamo che il protocollo che era stato siglato nel 2017 non teneva conto del fatto che la società nel frattempo è cambiata, come sono cambiati anche alcuni fenomeni sociali, penso ad esempio l'emergere delle baby gang che riguardano un po' tutta la costa, tutti i comuni, quindi è sicuramente un patto che andava aggiornato e che ora ci deve aiutare a fare un cambio di passo. Ero d'accordo anche col consigliere Marchei nella sua prima parte dell'intervento, poi dopo sulla seconda è chiaro, non posso essere d'accordo perché il nostro attuale sindaco quando è stato assessore alla sicurezza io sono convinto che abbia lavorato molto molto bene e tant'è che i risultati che oggi possiamo analizzare, che adesso anche elencherò, sono anche frutto del suo lavoro. Lui aveva promesso ad esempio da candidato sindaco nei primi 100 giorni l'assunzione di almeno 30 agenti di polizia locale, ecco noi oggi dal primo di marzo sono già appunto partite le chiamate per l'assunzione di questi agenti, si tratta di 30 agenti di polizia locale in più, più due funzionari, quindi sono 32 in totale, persone che hanno superato prove fisiche, persone che sono teoricamente pronte e che magari hanno avuto anche esperienze in altri comuni, quindi è gente che molto probabilmente non ha neanche bisogno di un'infarinatura per iniziare a lavorare. È già pronta per essere gettata nella mischia, utilizziamo questo termine un po' brutto, però rende bene l'idea. C'è stata la variazione di bilancio per ritrovare le risorse, si è approvata nell'ultimo consiglio. Esattamente, ma non solo, quindi adesso la polizia locale ha un organico composto da 200 agenti e se ne aggiungono questi 32 e tutti i pensionamenti che sono previsti nel breve, medio e lungo periodo verranno rimpiazzati in egual numero, quindi non ci sarà mai un calo del corpo della polizia locale. Anzi, le competenze e le professionalità di questi agenti verranno valorizzate ulteriormente con l'acquisto di tecnologie adeguate, ad esempio le bodycam e le dashcam che vengono installate sulle auto. Quindi il cambio di passo è anche proprio il livello di strumentazione. Abbiamo un corpo di polizia locale che si sta espandendo e migliorando a livello tecnologico e io sono convinto che il nostro corpo di polizia locale già fosse molto competente e avesse delle professionalità molto molto importanti e con l'assunzione di questi nuovi 32 agenti andiamo appunto a compiere questo cambio di passo che ci permetterà anche di affrontare l'estate in maniera più sicura, ma non solo. Ricordiamoci che sicurezza non è solo legata alla criminalità o microcriminalità o alla percezione della sicurezza. sicurezza è anche garantire anche il traffico ad esempio. Ricordiamoci che da qui a breve partiranno le rotonde sulla Statale 16. E quello sarà una bella gatta da pelare usando un termine. No esattamente, è una gatta da pelare perché creerà dei disagi per almeno un paio di anni sicuramente e avremo degli agenti impegnati quotidianamente per gestire queste situazioni. Sentiamo sul tema allora cosa ne pensa Markei partendo appunto da quello che ha appena detto, quindi queste nuove assunzioni e queste nuove dotazioni. Allora ovviamente non fa che piacere il fatto che i nostri agenti della Polizia Municipale possano lavorare con maggior sicurezza e con maggiore possibilità di ben operare. Tuttavia la sensazione è che si tratti dell'ennesima purtroppo dichiarazione di facciata, nel senso che giusto lo scorso 21 di dicembre con una delibera di giunta si è trovato un accordo secondo cui c'è una limitazione in particolare con la delibera di giunta la 442 in cui l'amministrazione ha trovato un'intesa con il sindacato degli agenti di Polizia Municipale tale che limita l'orario soprattutto durante le festività infrasettimenale, il che significa che proprio allora quando i turisti, gli avventori di Rimini verso Rimini in occasione di ponti, fiere, manifestazioni in pratica si avranno meno agenti a disposizione per un legittimo sacrosanto accordo che però defalca un certo numero di agenti. Quindi parlare di semplici soli 30 agenti per una città come Rimini con le necessità di Rimini e con anche esigenze particolari come quella che ha appena menzionato il collega Petrucci è veramente parlare di poco. Parlando di dotazioni io già in consiglio personalmente ho proposto e quindi qui mi auspico che ci sia un cambio di passo anche sotto il profilo dell'ascolto dell'opposizione, ho proposto all'amministrazione di farsi promotrice dell'adozione oltre che delle bodycam anche del taser perché adesso sarà a breve adottato dalle forze di Polizia di Stato e quindi sempre pensando alla tutela e al buon operato dei nostri agenti quello potrebbe essere Rimini anche per dare una immagine una sensazione di sicurezza percepita è opportuno che si faccia capofila come promotrice per l'adozione di questo strumento quando sarà possibile adottarlo per le amministrazioni locali. Faccio un passo indietro considerando il fatto che la cittadella dello sport che ovviamente si guarda con favore della sicurezza. Quello è un altro tema, magari un'altra puntata. Scusa per il refuso perché ne avevo parlato in un'interrogazione proprio io. La cittadella della sicurezza non risolve ovviamente i problemi, certamente facilita il lavoro dei nostri agenti, ottimizza i costi e i tempi quindi che si immagina poi possono essere maggiormente a disposizione della cittadinanza ma se pensiamo che la cittadella della sicurezza possa risolvere i gravi problemi che ci sono in questa città ovviamente no. Ricordo altre sì che è stata proprio la Lega quando era al governo a comunque migliorare nettamente la situazione con la sede temporanea, con criticità certamente ma sicuramente i nostri agenti di polizia hanno trovato un netto beneficio con l'attuale sede transitoria in Piazzale Vornacini e quello è stato un'iniziativa che è fortemente evoluta dall'ora Ministro dell'Interno Matteo Salvini che dopo tanti anni di tentenamento della sinistra, evidentemente poco preoccupata per il lavoro dei nostri agenti, ha adottato in brevissimi tempi questa soluzione e oggi oggettivamente la polizia lavora in condizioni nettamente migliori rispetto al passato. Il panorama del 2017, dice il collega Petrucci del Baby Gang, ma questa non è una novità, questa non è una novità, è il risultato di una politica scelerata che ignora, lo dico oggi parliamo di sicurezza, ma io in queste 25 pagine e in tutto l'operato dell'amministrazione che ha tanti assessorati anche inutili tipo quello per le politiche per la pace e per il benessere degli animali, ma non trova albergo il termine della famiglia. Le Baby Gang e le recenti manifestazioni di disagio giovanile sono il frutto di aver ignorato l'istituzione della famiglia che non trova albergo in un assessorato dedicato da diversi mandati a questa parte, quindi parlare di criminalità assolutamente impone una differenziazione delle problematiche, se si parla in particolare della problematica giovanile questo è il risultato di una politica scelerata che ignora l'istituzione della famiglia. Allora sentiamo cosa ne pensa Petrucci, magari partendo dall'ultima sollecitazione non direttamente legata forse al tema di oggi, ma penso che meriti una risposta. Io ad esempio credo che l'assessorato alla famiglia, molti dei temi che riguardano la famiglia sono trattati ad esempio nelle politiche del welfare, quindi dire che manca un assessorato alla famiglia, magari discriminare altri assessorati che vengono ritenuti inutili, magari non è assolutamente, secondo me non è corretto, però quello che voglio dire è che di iniziative a sostegno della famiglia ce ne sono parecchie anche a bilancio e anche a livello tematico all'interno delle deleghe del welfare, quindi voglio dire sì magari un giorno ci potrà essere anche un assessorato alla famiglia, ma queste tematiche sono già ampiamente sviscerate, però ad esempio non condivido l'inutilità dell'assessorato per il benessere degli animali, è un assessorato comunque importante perché la società evolve e anche gli animali comunque entrano a far parte della famiglia, quindi magari alcuni potranno non considerare una priorità, però di fatto in un comune di 150 mila abitanti è tutto importante. Per quanto riguarda quello che segnalava il consigliere Marchè sulla limitazione dell'operatività degli agenti della polizia locale nelle ore notturne, c'è anche da dire una cosa, non è che c'è solo la polizia locale a Rimini che si occupa di sicurezza, di pattugliamento del territorio, di pronto intervento, esistono anche altre forze dell'ordine, sono i carabinieri, la polizia di Stato, c'è la guardia di finanza, bisogna lavorare in maniera sinergica e questo patto per la sicurezza avanzata mira anche a questo, a lavorare in maniera sinergica, quindi è questo appunto il passo che bisogna effettuare, migliorare appunto la collaborazione e io sono convinto che anche nel breve periodo riusciremo a centrare questo obiettivo, tutto legato ovviamente anche a una questione che è di vitale importanza, è chiaro che se ci fosse un passaggio di fascia amministrativa dalla questura, dalla fascia C nella quale ci troviamo ora, alla fascia B è chiaro che cambierebbe tutto lo scenario. È un tema di cui si parla da decenni direi ormai e però ancora non si è trovato il modo di dare una risposta, insomma cambiano i governi, cambiano le parti politiche che governano, ma non in città perché insomma qui c'è stata costanza, però a livello nazionale ma una risposta a questa tematica non è mai arrivata. Una cosa se posso approfondire è vero, questa è una problematica alla quale non ha trovato soluzione nessun governo nazionale di qualsiasi colore che sia di centro-sinistra o di centro-destra e quindi qui tutti devono effettuare un mia colpa, come è anche vero che però ha governato anche il centro-destra quando era ora di risolvere la questione della questura di Vio Ugo Bassi. Quindi è vero che durante il governo della Lega è stata spostata la sede della questura in piazzale Bornacini, ma è anche vero che poi la Lega quando era al governo come anche altre forze politiche di colore diverso non sono riuscite a trovare una soluzione, quindi di quale responsabilità sono molto intracciate. In ogni caso, ripeto, si è fatto quello che era possibile fare. Sulla vicenda d'Ama io credo che i governi nazionali c'entrino veramente poco, perché lì si è trattato di un accordo, condizioni modificate, vicende private della società e quindi credo che si siano già spese tante parole sul discorso della precedente cittadella della sicurezza. Certo c'è la mare in bocca per tanto tempo perso, tante risorse sprecate, però ora ben venga e tutta la politica locale deve lavorare unita in questo senso sì, perché possiamo avere finalmente, tra l'altro è un bene acquisito dal demanio, quindi risparmieremo anche dei costi non indifferenti, insomma di tanti canoni per varie caserme sparse in giro per la città e quindi poi si confida che questi soldi risparmiati si tramuntino in maggiori servizi per i cittadini. Dicevo all'inizio che questo patto non è un semplice aggiornamento perché si passa da 4 paginate a 25 pagine dense di propositi. L'importante è che l'azione amministrativa, l'azione della politica locale tutta, maggioranza e opposizione, è un clima di ascolto, lavori per farsi interprete, perché queste sono dichiarazioni nobili, dichiarazioni di intenti, però penso innanzitutto, ho rilevato con piacere il fatto che si parli ripetutamente non tanto di criminalità in senso generale, ma di cultura della legalità. Allora la politica deve avere l'onere e l'onore di farsi interpreti di questo cambio di terminologia che è fondamentale, perché come dicevo prima, se si parla di criminalità non si può generalizzare, non si possono fare roboanti proclamazioni populistiche, ma occorre analizzare il problema. Ho analizzato prima quello sommariamente della problematica giovanile che è di attualità, visti i fatti diversi che hanno riguardato l'ambiente scolastico e quello del centro storico, che però sono la cartina torna sole di una situazione che è percepita da diverso tempo e ovviamente la mia interpretazione è quella di una carenza delle istituzioni naturali come quella della famiglia, del ruolo genitoriale e la famiglia che viene abbandonata, ma poi quando si parla di cultura della legalità e ampliando il ragionamento sulla sicurezza, naturalmente cultura della legalità significa che approccio alla politica con il tema della droga, prossimamente si discuterà, c'è la tematica della liberalizzazione, come si pone la politica rispetto a questo, perché qui parliamo di contrasto allo spaccio, ma poi una certa cultura anche ampia del mainstream strizza l'occhio alla liberalizzazione e comunque a riconoscere il diritto a tutti, come ci poniamo con il problema del rispetto della divisa, come ci poniamo con l'abusivismo commerciale, quindi quando si parla di cultura della legalità ci sono tanti temi che la politica locale dovrà affrontare, di cui si dovrà fare onere, però è necessario che si guardi agli indirizzi e quegli indirizzi a volte portano a visioni politiche molto diverse tra il centro-destra e una certa sinistra che è ancora su certe tematiche delicate vittima di ideologia e demagogia, penso al rapporto con la droga e penso al rapporto con le divise e quindi è necessario che ci sia un'azione forte perché c'è tantissimo lavoro da fare e quindi l'ospicio è quello che la politica si faccia interprete di tutti questi propositi. Sentiamo allora cosa ne pensa Petrucci. No, condivido molto di quello che ha detto il consigliere Marchè in questo intervento che ha sottolineato giustamente il fatto che qua si parla di un approccio culturale differente, infatti per quello che nel mio esordio in trasmissione ho detto che la sicurezza non è solo un risultato ma è un processo, un processo perché è un processo a tappe e la cultura fa parte, è parte integrante di questo cambiamento, infatti questo patto prevede anche la collaborazione stretta con le scuole, con i giovani, con le famiglie per cercare proprio di portare ad un'educazione della legalità che sviluppi anche un certo senso civico all'interno del tessuto sociale soprattutto nei più giovani. Questo è fondamentale, è per quello che prima ho definito anche multidisciplinare perché coinvolge tante discipline, coinvolge che non riguardano strettamente l'applicazione della sicurezza, il pattugliamento e il controllo del territorio, va oltre ed è per questo che secondo me ci permetterà da qui ai prossimi anni di garantire dei risultati efficaci sul territorio. Poi il consigliere Marchè giustamente dice dovremo poi collaborare in maniera proficua maggioranza e opposizione per attuare questo patto per quello che può riguardare i comuni di Limini e dice giustamente che ci sono delle diversità di vedute su vari temi, è vero, però queste diversità di vedute sicuramente riguardano soprattutto anche a livello nazionale, in base a quello che avverrà a livello nazionale, poi a livello locale troveremo una sintesi perché la politica è sintesi, non è scontrarsi e poi rimanere sulle proprie posizioni e qui è chiaro che dovremmo essere capaci noi a attuare questo patto trovando una sintesi adeguata per quello che è il nostro territorio. Vorrei aggiungere una cosa che prima mi sono dimenticato, oltre ai 32 esempi e l'avanzamento tecnologico del quale verrà dotato appunto il corpo di polizia locale, bisogna aggiungere che in questo momento sono attive 190 telecamere. Esatto, perché c'è il tema delle telecamere che è affrontato direttamente nel... Esattamente, e ne verranno aggiunte altre 80, ne verranno aggiunte e questa è l'iniziativa comunale. Abbiamo visto tra l'altro recenti fatti di Caronaca che ci hanno dimostrato quanto sia importante la presenza di telecamere. Assolutamente, perché è un deterrente e nel caso poi l'evento criminoso si consumasse può aiutare nelle indagini e questo patto attraverso una collaborazione tra pubblico e privato permette, come ha ricordato il nostro sindaco nel contributo video di prima, ai privati di installare delle videocamere che possono appunto anche non solo riprendere la propria proprietà privata ma anche magari un raggio un po' più ampio che poi possa permettere anche di aiutare nelle indagini e se queste telecamere poi sono collegate ad un'unica centrale operativa sicuramente il risultato sarà ottimale ed è appunto uno degli obiettivi che vuole raggiungere questo patto. Dunque, l'implementazione delle telecamere è sicuramente un aspetto importante però a livello tecnologico oggi si può fare di più, si può fare molto di più ed è necessario rimanere una città come Rimini deve sempre essere all'avanguardia. Ho citato prima la necessità che Rimini si faccia promotrice per l'utilizzo dei taser perché anche a livello comunicativo il fatto che i malintenzionati sappiano che gli agenti sono dotati di uno strumento del genere sarebbe un ottimo deterrente soprattutto in situazioni di criticità e naturalmente riprendo la proposta anche di altri e se si parla in questo denso documento di contrasto allo spaccio Rimini non solo deve aggiungere, deve moltiplicare le forze dell'unità cinofile soprattutto nell'ambiente scolastico perché è sotto gli occhi di tutti, questo è un problema grave, un problema sociale che poi l'emergenza sanitaria ha acquito. Quindi se vogliamo dare un segnale fortissimo anche con una collaborazione perché poi un cane oggi può essere a Rimini domani potrebbe essere prestato a Riccione è necessario che i cani diventino molti molti di più evitando polemiche sul nome dell'allevamento che una certa parte politica ha sollevato. quando si parla di contrasto alla droga, quindi ho parlato di Tesero, ho parlato di unità cinofile, c'è anche l'utilizzo dei droni che gli agenti della polizia poi è necessario fare degli sforzi per formare del personale, questo per quanto riguarda la strumentazione. Per quello che riguarda invece poi la modalità con cui si vanno ad applicare è chiaro che una delle differenze che sta emergendo con il nuovo Consiglio è quella dei quartieri, cioè questo documento fa espressa menzione dei quartieri che però il PD in particolare resti io a ricostituire, barattandoli insomma con i Civivo che per carità coltivano propositi nobili ma certamente la ricostruzione dei quartieri in forma più snella, in forma gratuita ma si rende necessaria per riavvicinare la politica e quindi anche i problemi della sicurezza ai cittadini. Poi ovviamente la scelta del poliziotto di quartiere, del distaccamento di quartiere Gaiofana per esempio da cui entrambi proveniamo non ha un'esperienza positiva, secondo me è più razionale avere un nucleo che funziona e poi gli agenti che comunque girano per la città, ma queste insomma saranno poi le esperienze pratiche, però sicuramente un'istituzione intermedia tra l'attuale istituzione politica e la cittadinanza come i quartieri, ripeto rivisti in maniera estremamente più snella è importante, il quartiere è menzionato ripetutamente in questo testo quindi a maggior ragione è opportuno. Markei la interrompo un attimo perché siamo negli ultimi dieci minuti, vedo che Petrucci vuole ribattere, poi c'è anche una sollecitazione da casa che metto già anche sul piatto e c'è chi dice in riferimento alle telecamere di cui abbiamo parlato poco fa, ma c'è chi le controllerà queste telecamere? Perché questo è un altro tema che quando si parla di videosorveglianza spesso viene chiamato in causa. Petrucci se vuole cominciare dal tema quartieri così... No, allora prima di tutto il discorso sull'unità cinofile ha senso, comunque sia bisogna evidenziare come il nucleo cinofilo in dotazione alla polizia locale di Rimini sia già uno dei più numerosi, mi sembra di ragione, ma qui non voglio dare certezze, però mi sembra questo. I cani antidroga costano un po', però voglio dire perché non implementare appunto questo servizio che è sicuramente importante. Per quanto riguarda i distaccamenti, qui bisogna dire una cosa, effettivamente sul distaccamento di Gaiofana ci sono stati dei problemi, non si è riusciti a garantire un servizio continuativo, nonostante la sede ci fosse, e ci sono stati dei disagi, questo senza ombra di dubbio. Però anche alla luce dell'assunzione di questi 32 agenti, l'amministrazione provvederà anche alla riorganizzazione di tutti i distaccamenti e anche fornendoli di personale adeguato per garantire un servizio continuativo e sicuramente Gaiofana verrà coinvolto in questa iniziativa. Per quanto riguarda i quartieri, il Partito Democratico, come abbiamo anche detto pubblicamente, non è d'accordo e non sposa l'idea del centrodestra, che ad esempio anche nel centrodestra ci sono idee un po' diverse su come ricostruire questi quartieri. C'è chi li vorrebbe riproporre tutti in blocco, poi c'è magari chi come consigliere Marchei li vuole riproporre in maniera più snella e poi dopo c'è il centrosinistra, la maggioranza che dice che servono sicuramente ricostruire una forma di partecipazione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza, anche perché non nel processo decisionale, ma non con quella forma, perché quando i quartieri c'erano venivano contestati perché di fatto erano considerati inefficaci e impotenti, adesso li vogliamo riproporre in uguale maniera, dobbiamo anche adattarci a quelli che sono stati i cambiamenti di questa città nell'ultimo decennio e io penso che la nostra vice sindaco Tiara Bellini stia perseguendo la strada adatta da questo punto di vista, quindi io credo che da qui alle prossime settimane ci saranno delle novità e sicuramente però dovremo tenere in considerazione nell'organizzazione di queste forme di partecipazione anche di quello che dice questo patto, questo senza ombra di dubbio. Le telecamere le saranno controllate? Ci sarà chi le controlla? Io credo proprio di sì. Velocemente lasciamo ribattere Marchei e poi abbiamo un servizio da mostrare. Io penso che sul discorso telecamere rispondendo alla domanda del telespettatore serva un'implementazione ben più sostanziosa dei 30 agenti e soprattutto gli agenti bisogna assumerli e formarli adeguatamente perché oggi gli strumenti tecnologici e gli strumenti che vengono messi a disposizione richiedono questo, quindi 30 persone con le decurtazioni che ho citato prima sono veramente ben poca cosa per le attuali esigenze di Rimini. Quando parlo di cambio di passo pretendo che ci sia anche sotto il profilo della convocazione del tavolo di analisi e monitoraggio che è riproposto all'articolo 3 di questo patto con una cadenza minima di sei mesi, ma una città come Rimini con i problemi che ha soprattutto d'estate deve vedere la convocazione da parte del sindaco di Rimini come capoluogo in maniera estremamente frequente e convocando mi permetto di dire non solo le istituzioni ma anche le eccellenze della città. Penso ad esempio sotto il profilo dello spaccio alla comunità di San Patrignano perché troppo spesso viene usata come passerella per propositi ma poi nel mondo scuola sotto il profilo della prevenzione alla tematica della droga, c'è anche l'altra tematica grave a livello giovanile della dipendenza di alcol o delle sostanze psicotrope. Quindi la comunità di San Patrignano smettiamo di usarla come una passerella e ascoltiamola e coinvolgiamola per pensare alla funzione genitoriale che è la prima prevenzione. Qui se si parla di criminalità occorre una costanza importante e crescente sinergia tra la repressione e la prevenzione e la prevenzione. La prevenzione deve partire dalla famiglia, la famiglia che è lasciata sola, che affronta a livello dell'essenziale tutti i disagi di ragazzi che non hanno punti di riferimento perché la società non gli è di dà e quindi occorre a livello preventivo agire sul sistema scolastico partendo dalle famiglie. Non so se Petrucci vuole ribattere. Sì, nell'articolo 3 mi sembra che citava il consigliere Marchè è vero che si parla di una convocazione semestrale ma c'è anche scritto che può essere una convocazione più frequente su richiesta dei sindaci quindi di fatto quella semestrale è una cadenza che viene scritta in maniera formale ma poi può essere cambiata assolutamente. L'abbiamo tenuto per le battute finali, magari ci fornirà qualche ulteriore spunto per gli ultimi scambi ed è il consueto rapporto del Sole 24 ore, è un po' datato per questo non l'abbiamo messo in fase iniziale, è dell'ottobre scorso, si riferisce ai dati del 2020, un anno particolare il 2020 perché si parla tanto dell'impatto del turismo ma sappiamo che nel 2020 l'impatto turistico è stato più contenuto rispetto a quello degli anni precedenti. Nonostante questo Rimini purtroppo resta sempre in quel podio dal quale non si riesce a schiodare, parliamo del podio per numero di reati in confronto alla popolazione residente. Sentiamo questi dati e poi qualche riflessione insieme. Milano prima, Bologna seconda, Rimini terza. Questo è il poco invidiabile podio della criminalità nella graduatoria elaborata nell'ottobre scorso dal Sole 24 ore sulla base dei reati denunciati nelle province italiane. Due premesse, non nuove ma doverose, la classifica evidenzia una propensione più alta alla denuncia nelle realtà del nord e come spesso ricordato non tiene conto dei flussi turistici, benché molto più limitati nel 2020 a causa del Covid. Detto questo, il dato positivo è che Rimini vede diminuire i reati dai circa 20.000 del 2019 a 15.642. Nel 2013 erano quasi 27.000, un calo costante ma non sufficiente ad abbandonare i posti in vetta. Dando uno sguardo ad altre realtà turistiche, Venezia ad esempio è diciottesima subito dopo Ravenna, mentre Verone e 54. Nel 2020 in provincia le denunce sono state 4.603 ogni 100.000 abitanti. Nei singoli indicatori presi in esame Rimini spicca per furti dove è seconda con 2.189 ogni 100.000 abitanti e 7.438 denunce complessive, oltre 20 furti al giorno. E terza per lesioni dolose, 458 denunce in totale. Quarta per rapine con 75 denunce ogni 100.000 persone per un totale di 255. I reati più legati alla droga hanno portato invece a 258 denunce. Il sindaco di Rimini, Jamersa Le Golvade, evidenziando comunque il costante calo di reati dell'ultimo decennio, torna a mettere in luce il peso dell'accoglienza turistica, testimoniata dai tanti reati predatori, tipici dei luoghi ad alta concentrazione di ospitalità. Dal punto di vista operativo, il primo cittadino denuncia il mancato rafforzamento strutturale degli organici di polizia, chiedendo al governo il rispetto degli impegni sulla nuova sede delle forze di polizia e il passaggio di categoria della questura. C'è poi una riflessione su risse e violenze legate a bande giovanili che hanno caratterizzato la scorsa estate della Riviera. La richiesta è di adeguate azioni di prevenzione e contrasto, così come sul versante del monitoraggio delle strutture ricettive che ospitano persone fuori dalla legalità. 4.603 denunce ogni 100.000 abitanti. Questo è il dato che ha portato Rimini sul podio dei reati nel 2020. Io chiederei un commento, insomma alcuni aspetti li abbiamo sentiti nel servizio a Marchei. Dunque la classifica purtroppo è sempre impietosa con la nostra città e è una fotografia non a 360 gradi ma sicuramente è una fotografia di quella che è l'insicurezza che in maniera crescente i cittadini hanno vissuto, hanno percepito negli ultimi anni. Ecco che allora anche in consiglio io ho parlato di un'esigenza non solo di un cambio di passo effettivo ma anche comunicativo. Quando prima mi riferivo al discorso dei taser o delle unità cinofile, la comunicazione anche a livello di deterrente e a livello di prevenzione è importante e quindi se Rimini che è tanto brava a comunicare le inaugurazioni opportune, necessarie di tutte le cose che sono state fatte dall'amministrazione anche in questo campo deve usare la stessa politica, deve usare lo stesso metro e deve evidenziare appunto il fatto che oggi si deve respirare una nuova area politica che mette la sicurezza del cittadino, il cittadino al centro, il cittadino e la sua sicurezza ma non solo come privato perché qui ieri sera ero insieme a un operatore in una nota zona commerciale della città e dice qui possiamo giocare a tennis perché il problema è che tante zone, anche questo fatto è altro tema, ne vorrei divagare, però ci sono tante zone dove l'isolamento delle attività porta ad alimentare in chi ha propositi criminosi il fatto di poter commettere crimini e quindi il cittadino deve essere rimesso al centro con una serie di misure efficaci che prima ho citato. Petrucci, se vogliamo guardare il lato positivo ci sono questi 5 mila reati circa in meno tra 2020 e 2019, poi vedremo il 2021 perché magari è più facile fare un raffronto. A dire il vero negli ultimi vent'anni il trend è in calo delle denunce e quindi sicuramente un aspetto positivo che dimostra che comunque le azioni che vengono intraprese da parte dell'amministrazione sono efficaci. Poi è chiaro, l'ha ripetuto il servizio, lo sappiamo tutti, l'impatto turistico su questa provincia per quanto riguarda i rati predatori fa la differenza perché se questa provincia ha ospitato le 15 milioni di presenze turistiche è chiaro che crea un bacino molto importante. Forse per questo dal 2020 con tutte le sue peculiarità ci si aspettava magari un esito diverso anche di questa classifica perché sappiamo che il turismo nel 2020 si è concentrato tendenzialmente a luglio e agosto, poco più. No, no, ma tra le altre cose prima del 2020 nell'anno pre-covid, solo le 24 ore, aveva introdotto anche il calcolo ponderato dalla componente turistica che andava un po' a dare un'immagine più realistica di questa classifica. Rimini nella classifica ponderata era centoduesima nella posizione delle città più insicure ed era nelle posizioni principali di vetta assieme ad Aosta, Trento, Bolzano e Venezia. Quindi questo dimostra che è vero, c'è una classifica che non tiene conto della componente turistica, poi però dopo ne è stata fatta un'altra che ne tiene conto ed il risultato è completamente diverso perché, ripeto, allo sfinimento i dati della criminalità su Rimini vanno anche ponderati rispetto a quella che è l'effettiva portata turistica di questa città. C'è un tema che però ci dimostra anche questo servizio e i dati che abbiamo appena sentito che l'estate è da questo punto di vista un nervo scoperto per Rimini e quindi anche nella prospettiva di un'estate che si sta avvicinando è fondamentale e si torna su un tema affrontato più volte che arrivino dei rinforzi, che arrivino per tempo perché solitamente anche in epoca pre-covid li vedremo arrivare dopo la notte rosa e andare via dopo ferro-agosto, è un periodo decisamente breve. Markei? Sì, non c'è stata la capacità della politica, senza formulare degli adebiti precisi, però non c'è stata la capacità della politica locale di rappresentare in maniera adeguata questa esigenza, poi se come diceva il collega Petrucci ci sarà il cambio di categoria ovviamente questo compito è più facile, ma Rimini deve vendere se stessa e non solo nell'estate ma Rimini naturalmente è l'unica realtà italiana, forse insomma europea, che ha la possibilità di essere ricettiva 365 giorni all'anno, quindi a livello comunicativo la necessità di riqualificarsi sotto il profilo della sicurezza percepita, ragione per cui è necessario che così come Rimini è riuscito ad attrarre dei finanziamenti per fare le opere che si sono realizzate in centro, anche sotto il profilo di maggiori forze, maggiori strumenti, perché non ci sono solo gli uomini, poi ci sono insomma anche le unità cinofili e come si diceva accostano, quindi è necessario che ci sia una concentrazione di sforzi su questo tema che è fondamentale e prioritario. Io quando c'è stato il consiglio tematico sul turismo avevo contestato il fatto che si trattava il turismo e la sicurezza come due cose separate e invece fanno parte dello stesso problema, perché se il turista ha la sensazione di stare tranquillo ovviamente torna a Rimini perché il problema sono tutte le presenze che abbiamo perso non solo per le pandemie, per le maggiori attrattività di altri luoghi, ma proprio perché tante volte in tante zone del litorale turistico il turista che veniva da tanti anni non si è più sentito sereno. Petrucci l'ultima battuta? L'ultima battuta è che giustamente il consigliere Marchè faceva riferimento alle risorse che il comune è riuscito a riperire a livello anche statale per la riqualificazione del centro storico ma anche del lungomare, da evidenziare come il patto per la sicurezza preveda anche appunto da parte delle amministrazioni l'impegno di migliorare a livello di decoro urbano proprio anche le zone che magari erano più malandate. Ecco di fatto Rimini da questo punto di vista negli ultimi dieci anni ha completamente svoltato, cioè anche con la riqualificazione dei lungomari, con la creazione di nuove piazze in centro storico, di nuove piazze nelle periferie, penso a San Salvatore, penso anche a quello che avverrà attorno al ponte di San Vito, qua si vanno a riqualificare delle zone che gli entrano di fatto in possesso delle persone e di fatto saranno luoghi più sicuri. L'ultima battuta vi chiedo una risposta flash, torno su un tema che avete affrontato più volte, il passaggio di fascia della questura. Vi siete fatti, ve lo chiedo anche a livello personale, un'idea del motivo per cui è alla luce anche di questi numeri che abbiamo sentito e che sono numeri non che ci diciamo tra noi a livello locale ma vengono pubblicati sul Sole 24 Ore con tutta la rilevanza del caso. La politica a livello nazionale, a prescindere dai colori, in questi anni non ci ha sentito da questo punto di vista, non ha pensato che Rimini avesse bisogno di quel passaggio. Markei, secondo lei? Qui è necessario che i politici, diciamo l'espressione politica a livello nazionale che il territorio esprime non guardi il colore politico ma ci si ragioni davvero su questo problema all'unisono ed evidenzi perché la politica tutta non è stata diciamo ad oggi capace, quindi qui davvero bisogna svestirsi della casacca che ciascuno di noi porta, parlo insomma dei politici nazionali perché questa cosa come ho detto prima non è stata ben evidenziata, quindi è necessario che qui ci si metta tutti davvero a braccetto senza guardare gli interessi e i colori particolari. Si porti a casa il risultato. Si porti a casa il risultato perché questo poi liderebbe tante discussioni che abbiamo avuto anche questa sera, perché se si parlasse non di 30 agenti, in questo caso della Polizia di Stato o della Polizia Municipale ma di 100 o di 200 ovviamente avremo altre cose di cui parlare. Di fatto mi sono fatto quest'idea nel corso di questi anni, premesso che il passaggio di categorie amministrative è fondamentale perché svolterebbe completamente le nostre prospettive e anche la programmazione sia turistica che di sicurezza nell'organizzazione di tutti gli eventi che vengono svolti quotidianamente a Rimini, soprattutto d'estate, ma perché no anche a livello fioristico, a livello congressuale. Io mi sono fatto l'idea che probabilmente questo passaggio non è avvenuto, probabilmente anche per mancanza di sintonia a livello nazionale perché qua, ripeto, le responsabilità sono multipartiti che non è questione di Lega, PD, hanno governato tutti bene o male in questione a livello nazionale. Probabilmente mi sono fatto l'idea che ci sono anche in realtà messe molto molto peggio di Rimini. Io ringrazio Matteo Petrucci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Rimini, ringrazio il consigliere della Lega Loreno Marchei. Grazie a voi, buona serata ai telespettatori. E anch'io auguro una buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito con Fuori dall'Aula, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a voi, buona serata ai telespettatori.